Abbiamo ricevuto molti telegrammi, ringraziamo il dottor Gabriele Bellocchi, rappresentante nazionale dei giovani e vicepresidente nazionale della Croce Rossa italiana, Valerio Mantia, segretario generale della Croce Rossa, Rosario Valastro, consigliere nazionale, padre abate Don Mauro Meacci, Monsignor Mauro Parmeggiani, onorevole Rodolfo Lena, consigliere del Lazio, Deborah Diodati, presidente area metropolitana di Roma. Passiamo ora a premiare i nostri bambini, i bambini che l'anno scorso, ah benissimo, allora passo indietro, se qualcuno vuole fare qualche domanda alla nostra dottoressa, può farlo, passiamo il microfono. Non deve essere necessariamente una domanda impegnata, può essere anche un po' curiosa. Allora qua ci sono due bellissimi bambini, voi cosa dite? Che noia stasera, non ci lasci più andare via, dite questo? Toccati bene. E allora, io volevo sicuramente ringraziarla per il fatto che è stata indubbiamente di ispirazione, almeno per me, per quello che lei ha fatto riguardo, diciamo il caso di Alfie, in senso, e l'ispirazione sicuramente come uomo, come medico, come volontario, come cristiano. E volevo dire appunto se per lei esiste una sorta di deriva della medicina attuale, orientata a vedere la medicina più per guarire, piuttosto che per curare. Soprattutto appunto per i medici giovani come me, fondamentalmente. In seconda istanza volevo chiederle se, alla luce di quelle che sono anche le problematiche economiche in cui versa purtroppo l'Italia, vede in prospettiva la necessità in qualche modo di riformulare, rivedere le dinamiche che regolano il nostro sistema sanitario nazionale, così come l'abbiamo conosciuto finora. Grazie. Torre ha fatto domande molto importanti. Il caso Alfie è stato un caso che è venuto pochi mesi dopo il caso di Charlie Kahn. Tutti e due sono stati casi molto difficili. E vi posso dire che oggi si sa anche qual'era la malattia da cui era affetto Alfie, così come si sapeva qual'era la malattia da cui era affetto Charlie. Malattie inguaribili, ma come noi diciamo sempre, curabili. Certo, la guarigione, lo stare bene, lo stare meglio, è una giusta aspirazione. Quando però non si può guarire, bisogna continuare a curare. Anche durante un percorso di guarigione si cura, si cura intensamente. Cioè il problema è la scelta di curare anche coloro che in quel momento la scienza li chiara inguaribili. Questa è un'esperienza frequente da noi, dove i bambini poi vengono mandati a casa, ritorno, stiamo per aprire. Adesso a Roma la prima struttura del centro sud Italia per le cure pagnative. Perché anche questo è un modo di continuare a curare e a stare vicino queste persone che hanno bisogno in quel momento, ancora hanno avuto tanto spiega e di tanta speranza. A Litoro abbiamo veramente una trentina, credo, di casi delicatissimi, sottosommato, simili proprio a quelli di Charlie o di Alfi. Alfi, perché è successo? Perché non c'è stata relazione? Certo, il bambino aveva una malattia gravissima e non sarebbe quella, alla luce della scienza di oggi. Ma avrebbe potuto essere curata. Era quello su cui noi avevamo insistito. Io devo dire che il caso sia di Charlie o di Alfi, prima che venisse in pubblico, io da alcuni mesi, a nome del segretario di Stato, lo stavo seguendo, anche perché non diventasse un caso esclusivo. Poi il Papa ha incontrato il Papà, il Papà è venuto da me, e una domenica un grigio sono stata chiamata a Papà perché andassi a Liverpool e facessi sì che questo bambino potesse venire in Italia. Io mi ricordo ancora, è ovvio che me la ricordi, la frase di Marco Francesco di cose normali ne fa tutti i giorni, adesso però faccio una cosa impossibile. Ci abbiamo tentato, ma non ci siamo riusciti, perché questa mancanza di relazione aveva creato un muro, un muro invaricabile. Io sono stata ore in questa sala d'attesa, con due poliziotti che guardavano la lista come uno dei nostri animatori, e neanche hanno lasciato che io vedesse il bambino. Il bambino non era in una situazione che non si poteva incontrare. E questo perché a un certo punto si sono creati due muri uno contro l'altro, questi due muri, come sempre succede, è come quando, in caso delle guerre, no? Quando sono due muri uno contro l'altro, possono succedere solo morti. Questo era stato anche il caso di Charlie Carr. Oggi questi genitori, i genitori di Alfie, hanno avuto un altro bambino, la mamma era già incinta di tre mesi, e io quando sono tornata sono partita per la Siria, perché dovevamo fare questo lavoro, ma perché dentro di me c'era come una spinta, no? Io non mi sono occupata di Alfie, perché era un caso mediatico. Alfie era come tutti i bambini del mondo, e mi sono sentita di anticipare la mia partenza per la Siria, quasi con un siglo, ma cioè, non è vero che io ho saputo che Alfie era morto, mentre in Damasco andavo da Lepo. Io ho detto anche il bambino delicato. Il dottor Lepino passava con il cinema e telefonate e cercava di dare le risposte che potevo dare in quell'occasione. Il servizio sanitario nazionale, l'Italia ha un servizio sanitario nazionale straordinario. Più giro il mondo e più mi accorgo tutto e sostanzialmente hanno ammenti nei paesi ricchi e nei paesi poveri. Peccato che come tutti i doni che si hanno, ad un certo punto vengono screppati. La mia generazione, ad esempio, è colpevole di avere spiegato tantissime risorse che c'erano, perché nell'abondanza sì. E questo è stato fatto. Oggi non c'è più la possibilità di curare tutti e purtroppo chi ne risentirà di più saranno le fasce più vulnerabili, più deboli. Soprattutto i bambini non moribili, è quello che vi dicono in Belgio, in Inghilterra, ma perché spiegare soldi se tanto non può essere morito? Questo è quello che il numero di prematuri in Belgio e in Inghilterra è quasi pari a zero, perché se un bambino nasce con delle difficoltà non viene fatto libera da solo. Ma questo timore potrebbe andare verso gli anziani, verso le persone con grave entità. Ed è questo un messaggio che io con destartaggine continuo a dare anche alle istituzioni che appartengono alla Chiesa cattolica, congregazioni religiose. Noi non possiamo più fare la sanità come si faceva una volta. Ho detto un giorno sorridente, al catenale parolino, guardi che l'ernia cattolica, con l'ernia laica non hanno differenza. In realtà oggi le nostre strutture, pensando a questa situazione, devono ritrovare quali sono le nuove povertà di salute e ad esse da risposta. Noi abbiamo una rinca di strutture, che stanno chiudendo, stanno andando malissimo, perché non sono in grado di gestire, che oggi non si può gestire come si gestiva 50 anni fa, invece di guardare oltre, di essere profetiche, di fare uno sforzo, di impegnarsi, di fidarsi ai laici, di avere fiducia. Perché è vero, i religiosi sono pochi, ma la Chiesa è una comunità, è un insieme. Diceva il Padre Guardiano, con me il Signore in Chiesa, la Chiesa, quindi i pattezzati, quindi dando fiducia anche a coloro che possono farlo e vedere davvero quali sono le risposte di quello che dice Gesù. Io penso alle malattie psichiatriche. Io non so se voi sapete, ma al pronto soccorso del bambino Gesù pediatriche, quest'anno sono arrivati oltre 100 casi suicidi, tentati suicidi, atti di gli adulti, io conosco famiglie con un bambino, perché adesso non sono autistici, è un po' di vite, con questi casi i bambini in famiglia sono famiglie sfasciate, non esistono. A tutto questo chi deve rispondere se non chi ha fatto della carità il suo credo e la sua fede? Ecco, è un appello che io continuo a lanciare, continuo a dire, perché lo sento molto, in realtà ero stata chiamata Roma per questo punto, poi è nato un bambino suo e sono stato deviato. Ma io credo che oggi, oggi, bisogna che il volontariato serio, come quello della Croce Rossa, con i più intermedi, gli ospedali che non sono un progetto, quindi che non devono essere una macchina solidi, abbiano realmente questa responsabilità. per i più fragili, per i più deboli, per i più vulnerabili. Perché lo assicuro, che fa il mio mestiere, questo lo sento in maniera fortissima. Noi, quando i nostri medici devono dimettere un bambino con la schizofrenia, portano in famiglia perché non c'è una struttura di accoglienza intelligente, fatta bene, e guardate che si sa di dare ai genitori una responsabilità che molte volte va sopra le volte forze. Ecco, quindi è vero, ci sono terremoti, ci sono tante cose, ma c'è anche questa quotidianità, io rilancio veramente grazie a questo brano Giovane Medico che ha fatto la domanda, un appello ad aiutare tutti a vedere davvero quali sono oggi le grandi povertà nel campo dell'assistenza america. Sapete quanta gente non riesce a pagare il ticket? Mi ha fatto mettere delle scape, dove mi ha registrato che non hai soldi per pagare il ticket e prendi contatto, ma se non ha senso che nessuno debba fare documenti, ecco perché anche questo si può superare molto. Io ho vissuto gli anni anche ricchi, belli del sistema sanitario, 44 anni, quasi 45 che faccio questo mestiere, oggi sto vivendo gli anni difficili, difficili, allora aspetta di farlo santo a chi ha questo come vocazione, come fede e come esperto di umanità, quindi grazie la formazione è importante e poi metti la servizio di tutto quello che vuoi. ci sono altre domande? Allora passiamo alla premezione dei nostri bambini, due si è dei bambini, due sono qua presenti, iniziamo allora vi faccio aiutare anche da Daniela e da Antonella con la prima infanzia, il primo premio quindi alla più piccolina allora partiamo dalla scuola elementare perché una bimba si è assentata un attimo allora la scuola elementare il primo premio va a Miriam De Bianchi dove sei Miriam? Miriam la scuola elementare ma Miriam sei grandissima ormai fa la prima media allora i loro disegni in effetti li hanno fatti lo scorso anno lei faceva la scuola elementare adesso è grande fa già la prima media complimenti Miriam primo premio per scuola media Giulia pratesi applausi allora i genitori di questi ragazzi se alla fine della cerimonia vengono qui diamo il premio vero quello era simbolico certamente i bambini voi non scappate perché farete la foto con la dottoressa ok va benissimo è arrivata Silvia è arrivata Silvia non ancora andiamo avanti passiamo al secondo premio della prima infanzia Pietro bobi grazie 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 allora io richiamo la prima infanzia primo premio Silvia Sussini applausi grazie 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 sai cosa è successo all'ospedale bambino Gesù quando il Papa va in giro nel mondo i bambini gli regalano disegni e lui cosa ha pensato gli dargli al nostro ospedale perché noi li potessimo donare per tutti i bambini e c'è scritto questo biglietto questi disegni sono stati regalati dai bambini e Papa Francesco vuole che aiutino tanti altri bambini e abbiamo fatto una mostra e allora farò avere tramite Monsericciani alcuni di questi disegni anche a voi che li prendono per ricordo di questa bella iniziativa va bene? e secondo premio della scuola elementare Emanuela Savi quindi anche lei è una grande destinata tra i grandi adesso la quinta quando ha fatto il disegno faceva la quarta quindi quindi però è già però primo secondo premio guarda i premi sono tutti uguali eh perché siete tutti bravissimi quindi tu non contare il primo il secondo il terzo siamo tutti premiati insieme evviva questo lascia ben sperare eh va bene? tra poco cominciamo? con la musica evviva allora prima infanzia Alissa Morazza Morazza ma sai suonare? eh? sai suonare? perché vedi a scuola devono insegnare un po' più di cose belle non solo uno, due, tre, 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 sei ecco ma anche la musica eh? ad apprezzare il bello tu vivi in un paese così bello pieno di cose belle eh? quindi tu fai scuola questo e devi dire io vorrei il palazzo eh? e inizieremo a fare questo scuola elementare Francesco Elmiretti applausi applausi no? ora fai uno sport apri sai hai proprio il il fisico di loro c'hai proprio un anche sport fai? giuto eh siamo ben difesi eh in paese ben difeso da una ragazza così e a te cosa va? oggi che scrivete tutti che scriviamo tutti invece di perché un nuovo vocabolario e scrivere un italiano perché sai ci sono troppe persone che rivestono anche ruoli importanti anche nella politica in tante cose sai che non sanno scrivere? quindi è meglio che lo sai scuola media Luna sì la seconda Luna Roccati allora lo prende la professoressa di musica Maria Carla De Pisa ritira il premio per Luna Roccati e quindi lasciamo considerare la professoressa è flautista ma insomma per i bambini la chitarra è magnifica per iniziare poi terzo premio abbiamo già chiamato Francesco Orbiretti l'abbiamo già chiamato scuola media Giulia Petruzzi a Giorgia Petruzzi a Giorgia Petruzzi Giorgia scusami Giorgia Petruzzi ha detto non c'è? lo ridiri tu va bene ci sono la sorella la bella poi come dice la dottoressa tutti i premi a pari merito allora Emma Cinti scuola infanzia Emma eccola piccolina l'emozione l'emozione Matteo Proietti scuola elementare grazie 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 terza quinta la tratta la tratta la tratta la tratta la tratta insomma però ormai sei in via di grande cosa farai poi dopo le medie? oh non c'è una cosa che ti piace fare particolarmente che cosa? il calciatore ma non è un mestiere beh quello sì ma però i volontari proprio perché sono volontari non sono procati quindi devi trovare anche un mestiere so qui ci sono tante castagne e la qua viene castagne eh così bravissimo 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 allora trovi un mestiere che ti lascia nel tempo libero così fai la piccia rossa che intanto sopravvivi e lorenzo all'oro spero di averlo pronunciato bene scuola media di olevano romano non c'è non c'è ritira il premio sempre la professoressa remisa adesso ci vorrà il camioncino Valerio San Camillo scuola di infanzia non c'è ma non c'è vieni tu a ritirare noi ci fichiamo con la faccia della brava bambina quindi non fossi la fossa scuola media di olevano romano sabina ce i o se ce ci aspetta ha dei poveri però fai l'avvocato non dei ricchi fai l'avvocato dei poveri di quelli che non difende nessuno ti raccomando perché ti avvocati per i ricchi ce neanche trovi tu fai quello per i poveri vicino e qui abbiamo anche il come lo possiamo chiamare diplomino va bene allora Silvia Susini a te quattro premi due due regali e due certificati due diplomi ok bobby pietro vieni vieni corri 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 che non faccia che non faccia la mano il corpo a guardarmi un po' di inapertà Alissa Moraska che sei Alissa Savi Emanuela Savi Emanuela eccola qua Francesco Elbiretti e poi abbiamo Giulia Pratesi Luna Roncati è sempre la professoressa Giorgia Petruzzi sempre Giorgia Petruzzi sempre papà poi Emma Cinti sempre la dove stava la bimba che piangeva Matteo Proietti eccolo Lorenzo Talloru Lorenzo lo ritira sempre il papà Valerio San Camillo sempre è ormai ha preso premi per Sabina Sci e viva i bambini bambini potete venire tutti qui che fate la foto con la nostra dottoressa venite grazie grazie